benvenuti a questo nuovo video del cone v channel italia oggi parleremo delle informazioni che ci dà la cona sull'energia sul consumo dell'energia sull'utilizzo dell'auto prima di questo due altre cose la prima abbiamo una bandiera o una bandiera si è vero mi sono fatto fare questo sussulto di orgoglio mi sono fatto fare una bandiera del cone v channel italia che è esposta alla concessionaria hyundai nel posto dove di solito vengono parcheggiate le auto elettriche le cone elettriche prima di essere vendute la seconda cosa molto più importante è il funzionamento del riscaldamento oggi per la prima volta ho provato ad accendere il riscaldamento perché sono andato da host e cominciava a fare frescolino ebbene devo dire che c'è una grossa differenza rispetto alle macchine che avevo in precedenza questo perché perché le macchine che ho avuto finora scaldavano il riscaldamento funzionava tramite il calore del motore per cui si voleva un po prima che cominciasse a funzionare il riscaldamento con l'alfa 33 che i popoli norvegesi e svedesi chiamavano affettuosamente auto primavera in pratica partivo da rossam facevo 7 chilometri tra l'altro in discesa quindi che il motore funzionava anche poco e arrivavo ad aosta che cominciava appena appena a scaldare la cone invece con la pompa di calore funziona esattamente come il condizionatore d'aria ma al contrario nel giro di 1-2 minuti cominciamo ad avere aria calda che circola nella vettura bene cominciamo a vedere che cosa in termini di energia consumi medie eccetera ci dice la cona al tachigrafo o con tachilometri o cruscotto non al tablet che lo vedremo dopo cominciamo quindi col vedere che cosa ci dice il cruscotto allora io normalmente lascio sempre sul linfo dei consumi e dove ho la media che sto tenendo da l'ultima volta che ho azzerato questo contatore e in questo momento siamo a 13,7 proseguiamo dall'altra parte e qui abbiamo l'info cumulative quindi da o dall'inizio dell'uso della macchina come nel mio caso oppure da quando abbiamo ripristinato questo contatore qui c'è la somma dei chilometri percorsi la media e le ore di viaggio quindi fino adesso a quanto pare ho usato l'auto per 14 ore e 49 minuti infoguida questa informazione è una cosa che tra l'altro appare per pochi secondi quando spegniamo la macchina quando noi premiamo il pulsante start stop lo premiamo per spegnere la macchina per un attimo appare questa cosa qui e sono le informazioni del percorsi che abbiamo fatto nella giornata o comunque rimangono per diverse ore prima di essere azzerati e si azzerano automaticamente vedete ho percorso 17,9 chilometri sono andato da Osta e sono tornato indietro la media è stata di 11,5 kilowattore per 100 chilometri e ho usato utilizzato l'auto per 35 minuti proseguiamo 0 chilometri all'ora sono fermo ecco e questa è l'informazione di come è stato il mio stile di guida finora quindi nel 94 per cento del percorsi che ho fatto ho guidato in modalità economica nel 6 per cento in modalità normale e aggressivo 0 per cento adesso proverò a tornare sulla mia schermata iniziale che è quella della media e spegnerò l'auto e vedrete che per un paio di secondi vi appariranno l'info della guida che abbiamo visto prima vedete è apparso info guida rimane per un paio di secondi e poi scompare ed eccoci alle informazioni che possiamo ricavare dal tablet andiamo su energia allora cominciamo con questa cartina questa cartina in pratica ci dà il presunto raggio di percorrenza che possiamo fare quindi in teoria potrei arrivare fino a Milano praticamente fino a Genova fino a Berna tenendo presente che ho il 41 per cento di batteria torniamo indietro Info energia qua ci dice quanta batteria abbiamo l'autonomia e come i minuti e come è impostato il sistema di carica batteria quindi vedete che per arrivare al 90 per cento e quindi circa 414 chilometri con le colonnine fast ci vogliono 57 minuti invece con le colonnine da 11 kilowatt ci vanno circa 4 ore per arrivare sempre al 90 per cento che è l'impostazione che ho dato sia per la carica in corrente continua che per la carica in corrente alternata la gestione della carica non è impostata io non ho impostato nessuna carica programmata guida eco adesso qui ovviamente noi siamo fermi e quindi non ci siamo mossi rispetto a questa indicazione quindi non ci dice niente cronologia del risparmio energetico e qui abbiamo tutti gli ultimi chilometri fatti e la media dei kilowattore per cento chilometri qui ne abbiamo per un po' di giorni questo è stato forse il giorno in cui ho consumato di meno impostazioni modalità inverno ne parleremo avvertenza autonomia qua se io imposto sul navigatore una località da raggiungere che non riesco a raggiungere con l'autonomia mi viene indicato e queste sono le il percorso sempre sul navigatore l'autonomia disponibile se superiamo l'autonomia ci indica quando cercare una stazione di ricarica torniamo indietro e andiamo qui possiamo vedere quali sono i consumi immediati e qui cumulativa dall'accensione però da quando ho acceso l'auto in pratica non ho fatto nessun non mi sono mosso e quindi il sistema di guida non ha consumato nulla il clima non ha consumato nulla l'elettronica sta consumando 0 29 quindi l'accensione il cruscotto eccetera sta consumando 0,21 kilowatt per ora ed è il 100 per cento del consumo perché tutto il resto non sta funzionando questa è l'impostazione del limite di ricarica per la carica batteria in corrente continua vedete che è impostato al 90 per cento e questo invece è il limite di ricarica impostato per la corrente in la carica in corrente alternata bene torniamo indietro torniamo ancora indietro andiamo qui e qua possiamo anche vedere la lista delle stazioni di ricarica normalmente mi dà tutta una serie di stazioni di ricarica che sono in svizzera o in francia però se noi clicchiamo su live lui fa la ricerca delle stazioni che sono più vicine a me infatti vedete località autoporto pollen via guidorei e quindi queste sono le colonnine poste nella nelle vicinanze di dove sono in questo momento le stazioni di ricarica le posso ordinare come nome oppure le posso ordinare come distanza abbiamo visto quasi tutte le informazioni qualcuno l'avrò sicuramente dimenticata che ci dà la cona in merito ai consumi di energia la distanza delle colonnine al raggiungimento delle colonnine di ricarica eccetera modalità inverno abbiamo visto nel video che c'è una modalità inverno che noi possiamo attivare voi dovete sapere che le batterie patiscono le temperature molto fredde così come anche le temperature molto calde nell'inverno quando le temperature sono molto fredde noi possiamo attivare questa modalità inverno questa modalità in inverno che cosa fa tiene le temperature tiene il pacco di batteria a una temperatura ottimale per il funzionamento questo ovviamente a scapito di un consumo di energia nelle varie voci del consumo di energia avete visto c'era la guida c'era l'elettronica il clima e cura della batteria ecco se noi attiviamo la modalità inverno parte della carica della batteria serve proprio per mantenere la temperatura a un certo livello adesso io sto parlando di modalità inverno in zone tipo la valle d'aosta dove d'inverno sovente scendiamo sotto zero quindi è bene che le batterie siano curate come dice la core dei video canadesi dove li fa forse più freddo ancora c'è più neve che qua consigliavano anche di ridurre la frenata rigenerativa in maniera da evitare eventuali bloccaggi delle ruote adesso non so se sia il caso di fare anche questa operazione però sono loro sono abituati al freddo e quindi forse ne sanno più di me sicuramente ne sanno più di me adesso poi man mano che andremo verso l'inverno vedremo quale saranno le soluzioni migliori per la guida mantella cura della batteria per quanto riguarda la stagione fredda abbiamo chiuso anche questo video l'appuntamento è al prossimo video